buongiorno a tutti qui è destraker46 e oggi sono qui per un nuovo video su youtube e questa volta come potete vedere sono su minecraft e sono con due persone due lost individui per l'esattezza scusate eh eh skill erasboss beale che ti merito d'italia oh mio dio no sto molendo chi allo stronzo sei l'unico che riesce a sfuggitarsi con un blocco di terra non vabbè sta boss andiamo eh ragazzi come potete vedere siamo in minecraft vanilla quindi non useremo mods ragazzi quindi è il solito è semplicissimo minecraft quindi spacca blocchi pre-certe diamanti e se ti chiede questa è una bella casa per la vera di quali 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 quattro l'asso andiamo a farlo è quello che ha fatto la città di bollo persa sono potente guardate questa è una delle meravigliose io altro è più bello un albero con la terra al posto non ma la per il fatto per il soffrire alex 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 è un video che è skill erasmus quindi quando usciranno i loro video vi consiglio di andarle a vedere sul loro canale perché penso che ne faremo diversi vero ragazzi? ricordiamo che questa sarà una serie settimanale uscirà più o meno un video a settimana perché ognuno deve farsi poi alla fine i cavoli proprio ognuno ha un proprio canale quindi non abbiamo spesso non abbiamo tempo libero comunque da dedicare ok ragazzi allora io ti faccio le attrecchie inizia a fare quello che vuoi è qua la graffina non ce la volete lo fa grazie guardate chi ha la graffina è qua 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 sto arrivando come molti di voi hanno già notato e altri no io ho cambiato test no vado eh si ho cambiato test l'ora dopo l'altro in descrizione sembra più vero aspettate la coppola vedere coglione non sta facendo il video tu coglione non ce la posso ragazze un fail bellissimo comunque a proposito di texture come potete vedere non uso la la texture di default di minecraft ma uso la facebook eh se volete naturalmente scaricarla anche voi vi lascio link in descrizione grazie per me prego no ma ma mo ma 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 la parola questo è una spada altro che quella di diamanti ah 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 no io sto morendo di fame non mi chiede maiale maiale ci sono maiale qua eh sì che sono quello figo che si graffa subito le cose maiale nero maiale nero c'è una scada piccola ascia tranquillo 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 con quel episodio per me sarà di 20 minuti massimo perchè la mia connessione fa cacare ma anche la mia perfetto cerco sempre di trattenermi in come dire durate abbastanza contenibili diciamo abbastanza contenute contenute stessa cosa va bene ragazzi ho fatto un fail ora adesso tocca sulla skill erasmus ma non vedo l'ora di di puntarti il dito contro quando failerai e lo farei presto nessuno si non lo farà no carbone carbone mio carbone mio carbone ragazzi io penso che ognuno di noi per questa notte dovrebbe farsi i cazzi suoi farsi una casetta provvisoria per cazzi suoi oppure ragazzi se si decidete voi cosa facciamo per cazzi nostri oppure tutti insieme fai cazzo copierai per di rara da traste no sto dicendo per questa prima notte idioti no cazzo e ma se lo sento pure a finito tipo uomo ho messo tipo un violino che veniva tirati la torta ho fatto un po' percorrere un po' altrimenti esattamente 4 e valetona ottimo siamo picchi ma conto sono potenti ok io comunque ho 20 pezzi di legna del metri di carbone se vuoi passare cosa ok è arrivata la morte ok grande faccio una torcia io a skill la dormiremo insieme come bravi gay io dormirò da solo con un bravo forever alone perché io sono più figo io non dormo mai con gli uomini ma che cazzo non mi devo ricordare pure la posizione perchè come ricordate siamo il momento in casa in che senso vuol dire in che senso vero il maiale sto uscendo per cacciare mobs un piccone di pietra, ne voglio due oh dio santo a me a te alla voce ok 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 che cazzo dove sei skill sono più vicino di quanto pensi aspetta devo andare a cercare adeguare questo è il canale di scopo va io la stavo cantando in una prova di video però mi vergogno in un certo punto che ho detto ragazzi scusate ma sono un lamer beh so cosa vuol dire ma l'ho usato improbiamente quindi senza che ne solle scopo ma l'amore con la coppia non 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 cazzo dove 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 cazzo scheletri cazzo zombie cazzo zombie con l'armatura cazzo ma l'amore cazzo è arrivato uno di di cosciò come casa che si dice di fame di avete capito ragazzi basta non mi esprimerò più non mi esprimerò no cazzo no cazzo e non mi esprimerò scherla ma dove c'è andato me l'ha scelto da tu no sto venendo ma dov'è che cazzo mia è una strana addio 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 ha perso casa mia no questo è il canale vedo della lava comunque ah 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 ma si possono dire le parolacce su youtube si che cazzo c'è ma che mica servia logico no perché io essendo una persona ducati porca puttana non posso dire parola si è proprio eh ma se quando facevamo i retroscena bestemmiato un sardo vincarmi nel barbotto salve donna insangero lecce pop barbara poma io polla io sono livello 1 io io un altro ma mai che alla sola parola porca car edono buona di bobo un bel video del tempo il suo trovare casa mia testo 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 non è vero farò il giro con questo modo per il palermo anch'io stavo merendo di fuoco poi mi sono trovato una freccia nel ginocchio ok ragazzi ah pareto no merda 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 fu chi è no fu mi stanno ammazzando sui cazzo allora qua ci metterò la caracalla maracaibo ok certo certo ma perchè sei chiuso qualcosa cristian hai chiuso una cavernetta ad esempio con la terra oh vaffanculo oh oh che cazzo le piante a fare gli alberi qua c'è c'è non c'è abbastanza c'è un frogione cristian stavo per perdere casa mia perchè non ho fatto niente basta non c'è non c'è non c'è non c'è facciamo le cotolette no esci da qua esci dal mio cuore no ho crappato due bottoni ma vaffan non c'è io ho la caccia di mostri io sono a vivere guarda che come mi mi sto caendo prima mi ha precata mi esponzo ad attacchi di mobs per merda te varia ti 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 sfondo il culo se non la finisci tamarrone no 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 oddio potresti anche morire potresti anche morire adesso posso non fare pipì acquoti non ci posso anche andare un attimo un attimo un attimo arrivo qua oddio non c'è raga eh alex dentro il coso c'è tipo uno zombie con l'armatura di perle eh l'ho fatto entrare io mi sa no fast non l'ho apposta mi stava seguendo prima mi stava stalkerando io sono passato vicino a casa vostra ma oddio qua c'è uno scheletro uno scheletro con la spada no no porca puttana il lag iniziale ehi già oh oh che figata mi hanno dato chissà perchè mi è uscita la spada di pietra delle frecce delle frecce ci sa la spada c'è la è la mia se no ah che figo ciao ciao zombie aspetta portamelo qua non lo vedo lagga lagga sono le mie queste cose sono le mie no no fatele riparto non ti preoccupare ma dopo che non è che mi interessa oddio sposo non mi ha dato manco un po' di armatura mi sento male mi sento male mi ha droppato un arco quello stronzo ok questa è tua 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 no questa è mia ragazzi giorno e l'abbiamo notato che ne dici ok schienetro c'è mia struv 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 vieni qua con me mi sembra un po' troppo troppo stessi ah ci sei fatta pure la mia esperienze te lo dico ah ecco porta guarda che figata diuuu vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua cazzo orca guarda se oh mio dio te l'ho trovato davanti ok mi sei passato proprio da oh dai oh dai lag per capire la lava mai successo in minecraft cioè non mi succedono attenzio Dio mio è lag che ci posso fare il maiale mo mi da maiale arrosto guardalo mia che mi ha dato ah stronto ragazzi questa qui è la nostra diciamo che introduzione a quanto sopravviveremo insieme quanti benobosi momenti passeremo e naturalmente quante morti subiremo umiliati dagli zombie o dagli scheletri o dai creeper o da noi stessi figuratevi qua Alex mi stava per fare il culo io stavo per fare il culo a schilla quindi non è possibile un maialino con la faccia di anima di malla di uomo ok oh che ne dite se vediamo qua la puntata dopo ma io stavo stavo dicendo stavo introducendo nei nostri fail futuri molto probabilmente saranno questi quindi aspettatevi di tutti di più ma non noi pro quindi ragazzi secondo me è arrivato il momento di salutarvi ragazzi niente vi invito ad iscrivervi al mio canale a iscrivervi al loro canale che naturalmente il link lo lascio in descrizione e niente ragazzi ci si vede al prossimo video tutorial o gameplay che sto sia ciao ciao ragazzi grazie grazie grazie